C'era il mare Ti ricordi? Quando c'erano i dinosauri Ti ricordi? Allora qua Una chiesa grande Ma dicevo mare No? Allora Qua c'era Quella là è una chiesa lunga Vedi? Invece questa è corta E rotonda Vedi come sta? Rottonde 3 e 4 Perché? Perché era una forma Allora si dice che questa forma così era stata usata per Vedi come sta? Vedi come sta? Vedi come sta? Non. E rotonda Chiesa Sagittario Sagittario Sì E io metto prima ferro Ok E io voglio fare un piraio Ah va bene E poi i piraio Possiamo portare dei panini Dei panini Sì Sì